Prossima fermata Chiasso, stazione di fine corsa. Vi preghiamo di scendere dal treno. Arrivederci a presto. I viaggiatori in direzione di Venezia Santa Lucia sono pregati di spostarsi in testa al treno. Nächster Halt Chiasso. Endbahnhof. Wir bitten Sie auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Reisende in Richtung Venezia Santa Lucia steigen bitte in die vordere Komposition um. Next stop Chiasso. Terminus. All passengers are kindly requested to leave the train. Thank you and goodbye. Passengers traveling to Venice Santa Lucia, please move to the front of the train.